Benvenuti alla nostra rubrica quaresimale, verbi di Pasqua. Uno dei verbi ineludibili della Pasqua è il verbo morire. Chi è il soggetto di questo verbo? È l'uomo. L'uomo è un animale mortale. Certo, in quanto razionale è immortale, ma l'uomo non è immortale come gli angeli, i puri spiriti, perché l'uomo ha un corpo, meglio è un corpo, che non può non morire. E allora l'uomo è un essere per la morte? L'uomo è una sorta di pacco postale spedito dall'ostetricia all'obitorio? Insomma, si può vivere solo per morire? Qual è la risposta che ci dà Gesù? Perché Gesù è il Figlio di Dio e, in quanto tale, è un essere eterno, appunto, immortale. E però Gesù è stato mandato dal Padre per vivere una esperienza autenticamente umana. Certo, poteva morire anche di vecchiaia, e invece è morto giovane, è morto innocente. Perché è morto? È morto perché c'è stata una sorta di complicità, di coalizione contro di lui. Hanno cominciato dapprima gli iscrivi, i farisei, che l'hanno preso per un trasgressore della legge, Gesù che trasgrediva il sabato. Non era vero? È vero, certo, che Gesù ha detto che non è l'uomo per il sabato, ma il sabato per l'uomo. E comunque gli iscrivi e i farisei hanno avuto gioco facile per montargli contro la folla, tutta la gente che lo seguiva, che pure lo ha accompagnato fino a qualche giorno prima del processo, nella cosiddetta Domenica delle Palme. È stato una sorta di ingresso trionfale, ma tutto sommato un successo precario, molto fatuo. Intanto si erano coalizzati anche i Sadducei, che erano un po' una sorta di partito dell'estrema destra, comprendeva la tassa alta di Gerusalemme, comprendeva i sacerdoti del Tempio, i quali gliel'hanno fatta pagare, gliel'avevano giurata, quando Gesù, entrando a Gerusalemme, appunto ha cacciato i venditori dal Tempio, perché di Dio questo era il messaggio di Gesù, non si può fare mercato. E contro di lui si sono schierati anche gli Zeloti, cioè coloro del partito armato, potremmo dire, che comprendeva anche i Sicari, forse Giuda Iscariota potrebbe significare oltre che uomo di Cariot, per indicare la sua provenienza, anche Sicario, cioè coloro che andavano in giro armati con un pugnale corto sotto il mantello e lo brandivano a un segnale del capo e facevano una strage. Tutti questi sono rimasti delusi dal comportamento e dal messaggio di Gesù. E così anche i capi del popolo, i membri del Sinedrio, che poi hanno contagiato anche Pilato, lo hanno preso e lo hanno voluto dalla loro parte, insomma, e hanno coinvolto anche Erode, e insomma tutti contro Gesù, perfino i suoi discepoli. Ma come muore Gesù? Certo, Gesù è innocente, ma lo era anche Socrate, e però Socrate muore come l'eroe greco, muore senza segni di paura quando il soldato si reca quella mattina presto lì nel Britaneo, il carcere di Atene, i suoi discepoli trattengono il fiato, ma Socrate imbraccia quel calice che conteneva il veleno mortale della cicuta e lo tracalla come fosse un liquore molto gradevole. Socrate non mostra segni di paura, Gesù invece si prova paura perché sa che la sua sarà una morte vera. E cosa fa Gesù? Potrebbe fare come Geremia, anche Geremia è stato condannato innocente, ma Geremia appella al Tribunale di Dio e da Dio però chiede vendetta, che le loro mogli possano rimanere vedove, che i loro figli possano rimanere orfani, come per dire Signore fallo vedere che tu sei dalla mia parte, incenerisci di tutti. Non fa così Gesù, Gesù muore pregando, Padre perdonali perché non sanno quello che fanno. Gesù muore per amore, avendo amato i suoi, li amò sino alla fine. Si spiega così anche la fuga dei discepoli. In fondo è stato Gesù stesso che nel Getsemani, quando sono venuti a catturarlo, ha favorito la loro fuga, ha detto se siete venuti per me, allora prendete me, ma lasciate andare liberi loro. Ecco Gesù si offre come esca, ma non solo per loro. La sera prima nel Cenacolo aveva detto, questo è il calice del mio sangue che è sparso per voi e per le moltitudini, le moltitudini di oggi, di ieri, di domani, di sempre. Quindi muore per tutta l'umanità. Concretamente possiamo dire così, che su Gesù si è addensata una coalizione compatta che lo ha prima minacciato, poi processato, poi condannato e poi crocefisso. Ecco, una violenza totalmente ingiustificata, ma di questa violenza totalmente ingiustificata Gesù ha fatto l'occasione per una dedizione totalmente incondizionata. Ha amato fino alla fine. Ecco come Gesù muore. E non possiamo allora dar seguito a quanto affermato nel Corano che Gesù sarebbe stato sostituito per un motivo peraltro nobile. Merita rispetto anche questa opinione del Corano, perché Dio non poteva far morire di quella morte infamante il suo servo, Gesù considerato un profeta, un grande profeta, non il figlio di Dio. Ma questo non risponde alla verità dei fatti. Gesù è realmente morto e detto questo, dopo aver detto tutto è compiuto, spirò. Gesù è cosalato il suo ultimo respiro, per cui possiamo dire che è amato fino alla fine, nel senso non solo fino all'ultimo respiro, ma fino al vertice dell'amore, che è appunto quello di dare la vita per amore. Ci possiamo domandare a questo punto allora che cosa cambia della nostra morte, perché anche noi siamo soggetti alla morte e prima o poi verrà anche per noi la ora fatale. Cambia anche la morte, certo, perché se noi viviamo una vita all'insegna dell'amore, della dedizione, della bontà, della genosità, del sacrificio, allora ecco noi possiamo dare il segno del massimo amore alla nostra morte. Questo è il senso del morire per un cristiano, morire per amore, cioè dare la vita per amore. E ci sono storie ancora oggi, penso per esempio a quanto avvenne nell'ormai lontano maggio 1995 in Africa, quando sei suore italiane sono morte perché contagiate dal virus Ebola e loro potevano benissimo rientrare in Italia e mettersi in salvo e invece hanno preferito morire con la gente che loro hanno voluto assistere fino alla fine, sapendo già che contagiate da quel virus prima o poi anche loro sarebbero morte. E sono morte cantando, Signore voglio dirti sì con tutta la mia vita, canta un canto che nella loro comunità essi esse ripetevano spesso. Ecco, dare la vita per amore. Ma questo avverrà un giorno per ognuno di noi se ogni giorno noi lo vivremo come il primo, come l'ultimo, come l'unico. Se ogni nostro giorno sarà vissuto così, allora noi saremo allenati per morire d'amore, per morire per amore e quindi per risorgere, come appunto è avvenuto per Gesù. Grazie, buona continuazione del cammino cuaresimale e già fin d'ora buona Pasqua.